Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. La vicenda della separazione tra Totti e Ilari Blasi si arricchisce di un nuovo retroscena importante, finalmente la verità. . Francesco Totti e Ilari Blasi hanno rappresentato per anni il prototipo della coppia perfetta. Il calciatore e la conduttrice sono sempre apparsi follemente innamorati agli occhi dei fans, che seguivano con ammirazione le loro attività giornaliere, le loro vacanze, le loro giornate. La separazione tra i due è stata un fulmine a ciel sereno, nessuno lo avrebbe immaginato fino a qualche mese fa. . Totti, standa ai principali rumors del Gossi. Starebbe frequentando una donna, la Noemi di cui si è tanto parlato, da settembre 2021. L'ex capitano della Roma, dal canto suo, aveva sempre smentito le voci. . Come se non bastasse, sta circolando una notizia devastante, nel mese di ottobre del 2021, il nativo di Roma, Ilari Blasi e la sua amante si trovavano nello stesso locale per festeggiare il compleanno di un'amica. Un grande amico di Francesco Totti ha pubblicato un video in cui si vede che, a distanza dal tavolo dell'ex giocatore e della conduttrice, c'era Noemi che ballava sulle note di una delle canzoni napoletane più famose della storia. . Anna Boschetti, compagna di Andrea Battistelli, proprietario del locale della festa in questione, ha deciso di votare il sacco e di dire tutta la verità. Totti Blasi, finalmente la verità, parla la compagna del titolare del locale. . Alcuni quotidiani hanno rilanciato la notizia che la festa in cui c'erano Totti, Ilari Blasi e Noemi Bocchi era quella di Anna Boschetti. . La donna ha condiviso alcuni video su social network per fornire la sua versione dei fatti. . Non voglio parlare della fine del matrimonio tra Totti e Blasi, ma visto che sono stata chiamata in causa, vorrei precisare alcuni punti. . L'ex partecipante di Temptation Island ha annunciato che sta ricevendo anche numerosi messaggi, c'è chi la accusa di aver invitato alla sua festa sia la moglie che l'amante dell'ex giocatore della Roma. Io non sono nata il 23 ottobre e quindi non era il mio compleanno. . Quella sera era una cena spettacolo dove tutti hanno alzato il telefono e hanno prenotato il proprio tavolo. Io non conosco Noemi e ho scoperto solo oggi che quella sera c'era anche Noemi all'evento. . La Boschetti ha ribadito il tutto, non era il suo compleanno e non ha invitato nessuno. . Anna, infatti, non conosceva né Hillary né Noemi. Mi state accusando di aver invitato moglie e amante, non ho invitato nessuno, non era il mio compleanno, per chiudere il discorso, Anna ha ripetuto quello che aveva annunciato all'inizio. . Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.